Benvenuti ad una nuova puntata della via delle spezie. Abbiamo preparato davvero tantissimi argomenti per oggi, saluto subito uno dei miei compagni di viaggio in questa avventura, Marco Savona, selezionatore di spezie, ben ritrovato, ciao. Grazie anche a te. Puntata davvero ricca, parleremo di curcuma, culmino, noce moscata, macchis e sommacco. Tanta carne al fuoco, come si suol dire. Assolutamente sì. Partiamo subito per non perdere tempo. Presentaci queste spezie che stiamo imparando a conoscere non solo per l'aspetto, la marcia in più che possono dare ai nostri piatti, ma anche per le proprietà ovviamente terapeutiche. Iniziamo subito da questa curcuma coloratissima. Partiamo da questo anche perché hai parlato di proprietà terapeutiche, quindi in assoluto è forse la spezia che sotto questo punto di vista è più importante, perché parliamo del più potente antinfiammatorio in natura. Quindi naturalmente noi in cucina lo utilizziamo per dare colore, per dare gusto al nostro piatto, ma assolutamente è appunto la spezia probabilmente più terapeutica. È caratterizzata che cosa? Intanto qua vediamo diciamo il frutto della, cioè la pianta prima di essere lavorata che poi naturalmente raggiunge questo colore, questa consistenza. All'interno naturalmente di questo diciamo rizoma si celano tutte queste proprietà. In questo caso parliamo di una curcuma che viene definito il cuore di curcuma, perché in realtà noi preleviamo solo una parte di questo rizoma, perché in questo caso tutte le proprietà vanno verso il centro e quindi nella parte che viene definito il cuore c'è quello che è più buono, quello che è più naturale, quello che è più potente dal punto di vista antinfiammatorio. La conosciamo anche per il golden milk, quindi una bevanda che viene praticamente utilizzata proprio per disinfiammare, viene utilizzata in combinazione con il pepe. Questo perché la curcumina, che è la proprietà della curcuma diciamo più importante, è poco biodisponibile, quindi il nostro corpo non è sempre in grado di assorbirla. In combinazione con il pepe questa diciamo funzione viene amplificata di 2000 volte, quindi nel momento che andiamo a preparare una bevanda tipo golden milk, prendiamo un po' di curcuma, la aggiungiamo al nostro latte e diamo una spolverata, anche se sembra insomma qualcosa di troppo particolare, una spolverata di pepe e questo fa molto bene alla nostra salute. È sempre stato utilizzato come colorante, come ti ho detto prima bisogna stare attenti a toccarla perché diciamo la pelle, le mani rimangono diciamo colorate, macchiate per un po', ed è straordinaria dal punto di vista aromatico se prendiamo una spezia di qualità. Se andiamo a acquistare una spezia di bassa qualità, l'altra volta parlavamo come riconoscerla, avremo in realtà un settore invece ben amaro, quindi maggiore la nota di amaro che tira fuori la curcuma e minore è la sua qualità, quindi in questo caso possiamo riconoscere una spezia di alta qualità proprio confrontandoci con questo tipo di parametro. Ma da dove arriva la curcuma? Allora solitamente arriva dall'India, che è il paese, il maggior produttore al mondo, ma anche in questo caso quando si va a acquistare in India ci troviamo di fronte ai produttori che ti offrono diverse qualità. Viene diciamo classificato il numero da 0 a 5 premium, in questo caso parliamo di una curcuma 5 premium e fondamentalmente c'è tantissima differenza anche dal punto di vista del colore. Se riprendi questo colore c'è questa nota molto particolare, questo giallo ocre intenso che è straordinario, una curcuma di bassa qualità solitamente non ha questo colore così vivo e tende ad andare quasi verso di grigio. Invece il sumac? Allora il sumac è secondo me una spezia davvero straordinaria, purtroppo siamo costretti ad acquistare all'estero anche se in realtà è una delle poche spezie che cresce anche in Italia. Soprattutto in Sicilia, nella zona del Trapanese, ci sono distese di sommacco ma che in realtà non vengono sfruttate. In questo caso noi lo acquistiamo dalla Giordania, un paese che lo utilizza regolarmente e giornalmente ed ha un gusto particolare. In realtà è una delle spezie che è slegata dal punto di vista naso e palato, cioè se andiamo a sentire con il naso troviamo questa nota molto particolare mediterranea che richiama quasi il pomodoro essiccato. Se invece andiamo a assaggiarlo questo dà una nota di acidità molto marcata, tanto che viene utilizzata soprattutto nella cucina vegana o nella cucina tradizionale come correttore naturale di acidità. Quindi una spezia davvero straordinaria. Purtroppo andiamo a comprare l'estero perché in Italia non ce la teniamo. Invece il cumino è una spezia abbastanza conosciuta anche in Italia insomma? Sì assolutamente, il cumino è una spezia tutto sommato tra le spezie più conosciute in Italia. Diciamo che è molto importante per alcune cucine come la cucina indiana, come la cucina Tex-Mex, come la cucina diciamo che deve richiamare questa nota rustica molto particolare. Quando parliamo di cumino per esempio se andiamo in un locale dove ci offrono delle cili di carne, dove ci offrono dei piatti da cucina indiana, nel 99,99% dei casi questa spezia è assolutamente dentro. In questo caso il cumino diciamo si avvicina moltissimo a un'altra spezia, molti si confondono anche quando si va ad acquistare, che è il cummel. Cummel e cumino sono due prodotti assolutamente differenti. Il cummel viene definito anche il cumino dei prati ed è diciamo una spezia più utilizzata per esempio in Germania e le note sono leggermente differenti perché in questo caso abbiamo un prodotto un pochino più dolciastro mentre con il cummel abbiamo un prodotto molto più rustico, molto più invadente. Però una spezia che va bene dappertutto, va bene sul pesce, va bene sulla carne, assolutamente nei risotti, nelle insalate e ha questa nota al naso molto particolare che si porta dietro anche al palato. Invece le ce ne propone addirittura due, la noce moscata che è ovviamente ben riconoscibile e anche il macchis. Sì, allora le abbiamo messe insieme perché fondamentalmente arrivano tutte e due dallo stesso punto perché quando parliamo di noce moscata, la noce moscata è una spezia che fondamentalmente conosciamo un pochino tutti l'ingrediente diciamo fondamentale della cucina italiana, soprattutto dei nostri nonni, dei nostri genitori e la conosciamo perché veniva aggiunta per esempio alla bechamel, bechamel che senza noce moscata diciamo ha uno spunto assolutamente più basso. Mentre per quanto riguarda il macchis, il macchis non è nient'altro che la camicia che avvolge la noce moscata. Quindi fondamentalmente è una spezia che si deriva dallo stesso frutto e la differenza tra i due prodotti è che il macchis ha questa nota un pochino meno invadente. Noi diciamo che è una spezia un po' più elegante, un po' più rotonda, con meno spigoli rispetto alla noce moscata. Da noi in Italia è poco conosciuta o perlomeno poco utilizzata, per esempio in Francia, nelle cucine francesi, soprattutto in pasticceria è diciamo uno dei prodotti di punta, uno dei prodotti più utilizzati. La lavorazione della noce moscata quando andiamo a usarla con una piccola grattugia, questo diciamo che è un pochino più facile, utilizziamo un pestello, un mortaio o un macchina spezie, riducendola in polvere la mettiamo direttamente all'interno senza dover grattugiare. Marco, vogliamo ricordare la tua passione per le spezie, da dove nasce? Perché poi da una passione è diventato proprio un lavoro questo. Sì, assolutamente. Io ho iniziato a lavorare nella cucina di un ristorante e mi rendevo conto che la cosa più entusiasmante della serata o del giorno era proprio quando dovevo andare a lavorare, ad aggiungere, a scegliere le spezie perché erano secondo me la cosa che mi differenziava dal resto del mondo, perché andavo a comprare degli ingredienti di qualità ma mi sembrava sempre che le spezie non fossero così buone come in realtà io me le immaginavo. Ho iniziato a selezionare, a far arrivare le spezie dall'estero inizialmente come privato fino a quando poi non ho scoperto che in realtà non ne potevo fare a meno e quindi ho iniziato a farlo diventare un lavoro. Quindi secondo te un piatto senza spezie non è un piatto al 100%? Assolutamente sì, anche se io, seppur è il mio lavoro, dico sempre che le spezie devono essere un ingrediente in più rispetto al piatto e non devono mai prevaricare l'ingrediente principale. Quindi le spezie ci devono aiutare esclusivamente a sottolineare l'ingrediente che abbiamo scelto come l'ingrediente principale del piatto. Nella cucina Tex-Mex, come dicevamo, il cumino, il chili di carne piuttosto che una carne alla braccia fatta in maniera particolare non avrebbe assolutamente lo stesso gusto se non andiamo ad aggiungerlo. Questo un po' con tutte le spezie. Quindi la giusta quantità senza esagerare proprio per non prevaricare il piatto che abbiamo deciso di cucinare. Io ti ringrazio, adesso scappo in cucina, ci trasferiamo in un'altra bellissima location e ci rivediamo alla prossima puntata. Alla prossima puntata, grazie a tutti. Ben ritrovato Riccardo. Ciao a tutti. Siamo di nuovo in questa bellissima location, insomma stiamo facendo questo filo conduttore, questo viaggio nel mondo delle spezie ma anche questo viaggio nella bassa brisciana. Sì, infatti approfittiamo anche oggi della disponibilità della famiglia Martini e della locanda Leondoro per anche oggi entrare nelle cucine e capire anche per chi è a casa come approfittare e come poter utilizzare con queste aromi le spezie nella loro quotidianità o comunque nei loro momenti di festività o anche nei momenti di fantasia in cucina, insomma. È proprio vero, io adesso vado subito di là perché sono curiosa di scoprire che cosa ci ha preparato, che cosa ha inventato per noi oggi lo chef Alfonso Pepe, proprio sul filo conduttore delle spezie di cui stiamo parlando. Alla prossima Riccardo. Ben ritrovato anche allo chef Alfonso Pepe, tutto bene? Tutto bene, molto bene, grazie. Oggi ti sei sbizzarrito utilizzando la noce moscata che è un po' il filo conduttore della nostra trasmissione. Che cosa ci hai preparato? Ti abbiamo già visto all'opera? Sì, allora abbiamo fatto dei cappelletti ripieni di cappone o pollo per le amiche casalinghe che lo trovano più facilmente. Quindi cappone, ricotta, noce moscata, buccia di limone, pizzico di pepe, pizzico di sale. Questo è il ripien, una pasta classica. Nel qual caso io faccio 100 grammi di semola e 400 di farina bianca, solo rossi, per avere più gusto nella pasta. Quindi nel qual caso sono 30 rossi a chilo, mezzo chilo, 15 rossi. Se volete però 100 grammi un uovo. Stesso risultato. Grana, 18 mesi o anche 24. Amaretti. Ritroviamo la noce moscata sopra, burro buono, burro di marga possibilmente, salvia solo in julienne sopra e zeste di limone. Un mix di gusti scoppiettante, coadjuvato dal burro, che risulterà una delizia e esalterà a più non posso la noce moscata che abbiamo trattato in puntata. Un trucchetto per il burro, per esaltare ancora di più il sapore, abbiamo visto due passaggi. Esatto. Per trovare un gusto superiore al burro lo facciamo nocciola. Naturalmente non vogliamo né bruciarlo né dimenticarsi qual è il sapore originale del burro. Quindi ne facciamo una piccola parte portata a burro nocciola e andiamo a smorzare la temperatura del burro aggiungendo un'altra noce di burro fresca che stempera e distende un po' il sapore. Ma abbiamo i due sapori insieme, nocciola e burro naturale. E poi anche questo cappelletto, tu preferibilmente l'altezza cosa consigli? Allora personalmente la pasta ripiena va tirata sottile. C'è chi proprio vuole un velo impercettibile, a me almeno un millimetro di pasta piace perché la pasta c'è, abbiamo usato tanti rossi, quindi abbiamo fatto una pasta importante, voglio sentirla. Il ripieno andiamo su un ripieno abbondante e saporito, quindi perché eliminarlo? Un millimetro a me piace. Dal punto di vista di uno chef, cioè quello che poi crea e inventa questi piatti, la noce moscata per esempio, che spezia è per voi? La noce moscata io la adoro onestamente, è una spezia speciale. Ha un gusto tutto suo, rotondo, gradevole, avvolgente, esotico, vagamente piccante. La si può usare in mille modi, dai liquidi ai liquori alle salse, la classica beciamella la conosciamo tutti, dove andiamo a metterci la noce moscata. Ma io consiglio a casa di tenersela, non dico in tasca, ma sempre a portata di mano e adoperarla sui vari piatti, ingredienti. Vedete che ne rimarrete stupiti. Il mondo delle spezie è un mondo magico. Un piccolo tocco e ti cambia il piatto, oltre che fanno molto, molto bene. Benissimo, grazie davvero Alfonso, ci troviamo la prossima volta. Grazie per i tuoi preziosi consigli. Alla prossima. Ciao Elisa, ben ritrovata. Ciao Barbara. Tanti argomenti oggi, partiamo dalla curcuma, scopriamo perché ci fa bene. Allora, la curcuma è diventata molto famosa negli ultimi anni, infatti è molto studiata, è ancora oggi molto studiata, anche dalla farmacologia. Perché? Si è scoperto che integrando proprio nella nostra dieta, non solo a livello di aroma, ma con proprio la curcuma, anche in capsule, possiamo ottenere tantissimi, ma tantissimi effetti sul nostro corpo. Quindi viene utilizzata per più disturbi e per più patologie anche. Dobbiamo sempre fare il tentativo, prima personale, e iniziare ad utilizzarla. Secondo me per capire se una cosa ci fa bene, dobbiamo iniziare ad utilizzarla quotidianamente. Questo ci permette davvero di sentire, perché non è come un farmaco che agisce uguale su tutti, ma la natura agisce in sinergia con noi. Quindi è probabile che io non reagisca all'effetto della curcuma, anche se è parecchio strano, ed è probabile che io agisca molto all'effetto della noce moscata. Quindi non tutte possono essere spezie ed erbe, quindi fitoterapiche. La curcuma è una di queste, perché, come dicevamo, ha tantissime proprietà. La più riconosciuta e per il quale è più utilizzata è antinfiammatoria. È anche analgesica, quindi possiamo utilizzarla anche sui dolori. E gli studi che la stanno vedendo protagonista è perché la curcumina sviluppa proprio delle componenti contro i tumori. Quindi si sta studiando tutta questa cosa. Comunque è un ottimo integratore alimentare. E come l'assumiamo nel nostro organismo? Allora, noi la possiamo assumere in tanti modi. Sicuramente in cucina, se ci piace il sapore, secondo me è la cosa più comoda da fare, perché non è un momento della giornata dove dico devo mandare giù due cucchiaini di curcuma perché per agire a livello fitoterapico abbiamo bisogno di questa quantità, più o meno, due cucchiaini da caffè di curcuma. Può essere mangiata a stomaco vuoto la mattina, è una pratica che fanno in India gli yogi da sempre. È il golden milk, che è molto semplice da preparare. Appunto nel latte, il latte che si vuole, si mettono due cucchiaini di curcuma, miele, zucchero, quel che si vuole, e diventa una colazione. La curcumina per essere assunta meglio, di solito si vedono anche gli integratori già associati, abbinati al pepe nero, ma anche al tè verde e all'olio extravergine d'oliva. Quindi, ritornando al discorso della cucina, noi quando facciamo una spadellata di verdure, facciamo un risotto, facciamo una pasta asciutta, il sugo della pasta asciutta, o delle polpette, olio d'oliva, extravergine d'oliva buono, e due cucchiaini di curcuma. È vero che tutti i giorni rischiamo di stufarci, perché comunque ha un sapore intenso. È amaro, piccante, ma leggero, quindi è anche, vabbè, in cucina, è famosissima in Oriente, perché cresce là principalmente, a lei serve un clima molto piovoso e molto caldo. Quindi, vabbè, è la base del curry, quindi per la maggior parte, diciamo, è questa la base della miscela, poi tutte le altre, 20, perché sono 21, nel curry classico sono 21 spezie, poi la possiamo utilizzare per fare delle polpette, per fare delle creme, per fare delle salse e per colorare. Quindi tantissime volte viene utilizzata anche solo per colorare. Infatti in cucina poi ci accorgeremo, avremo tutto arancio e giallo. Invece il nostro cumino? Allora, il cumino è considerato fitoterapico, anche questo, come i cugini, finocchio e anice, ha le stesse proprietà. Principalmente lo si utilizza per la proprietà digestiva, quindi il sapore è molto simile, ma è come se fosse più, diciamo, da abbinare i salati. È meno dolce dell'anice e del finocchio. Anche in cucina si può utilizzare sia anice che finocchio, però è più indicato nelle tisane perché ci ricordano di più il dolce. Il cumino va utilizzato come tisana a fine pasto, come l'anice e il finocchio uguale, e oltre ad assorbire, diciamo, oltre a farci digerire meglio, assorbe i gas. Principalmente, quindi addome gonfio e problemi di gas intestinali, il cumino anche qui proviamo per tre settimane, altrimenti se prendiamo una tisana un giorno, diciamo, non ci fa niente. Non funzionano così le erbe. Le erbe vanno portate dentro di noi, il corpo deve riconoscerle, e inizia ad innescarsi questa appunto sinergia tra noi e la pianta che stiamo assumendo. La grande protagonista dei nostri piatti è stata la noce moscata. Anche lei fa bene? Fa bene, però non è un rimedio fitoterapico. Quindi questo è, diciamo, nelle controindicazioni, ci sono parecchie cose che potrebbero disturbare. Non come le altre, che potrebbe essere, mi brucia lo stomaco, quindi mi accorgo e non lo uso, non lo utilizzo. Entra nel sistema nervoso, quindi ha una molecola molto simile, un principio attivo molto simile a quello che si innesca in noi, nel sistema nervoso, quando produciamo la serotonina. Quindi potremmo sentirci più euforici, veniva utilizzato nell'Ottocento come una droga, una spezia, ma anche come allucinogeno. Quindi dai 2 agli 8 grammi potrebbe già risultare, per qualcuno molto sensibile, noi non sappiamo a quelle dosi se lo siamo e non proviamo, perché non è piacevole, è una sensazione che comunque non va utilizzata. Però in minime dosi, cioè quelle da cucina, non ci prendiamo le capsule di noce moscata, ma possiamo prenderci le capsule di curcuma. Stimolano quindi tutti questi processi, oltre ad essere molto buona, ed è quello che ci arriva subito, caratterizza dei piatti particolari, tipo la besciamella, se non avesse la noce moscata non sarebbe la besciamella. Eh sì, quante veramente cose ci sarebbero da dire sulle spezie, sia per la loro bontà in cucina, ma anche per la loro bontà fitoterapica, come ci stai insegnando ad apprenderle. Ovviamente ci ritroviamo la prossima puntata anche con te, e grazie ovviamente anche a tutti voi, e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti